Se non c'è un'ora, 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 se non c'è un'ora. Ho studiato il conservatorio di Alessandria, non sono di Torino, però non è la prima volta che partecipo a una manifestazione dell'arma. Sono molto onorata di fare parte di queste cerimonie. L'inno nazionale è chiaramente, cantarlo ha sempre un suo fascino ed è sempre importante secondo me per un civile come me, come tutti noi, fare questa cosa qua. Ma l'Alleluia di Cohen, che è un brano famosissimo, è stata scelta proprio per un gusto ormai che è entrato nel cuore di tutti, di tutti gli italiani, anche come pezzo straniero. Quindi un brano un po' nazional-popolare, molto bello. Una bella emozione, diciamo. Certamente, spero si ripeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.